Ciao a tutti ragazzi e benvenuti da Andrea Nebiolo. Prima di iniziare però, se non l'hai ancora fatto, ti invito a iscriverti al canale, attivare la campanella così da rimanere sempre aggiornato quando verranno caricati nuovi video e nuovi contenuti. Oggi volevo darvi un'idea operativa un pochino diversa dal solito. Abbiamo spesso parlato degli indici americani, soprattutto Futures, e abbiamo visto spesso anche quanto sia difficile tradare il lato ribassista delle strategie. Questo perché ovviamente questi mercati hanno un buy and hold, quindi una tendenza a salire piuttosto marcata negli ultimi 10-15 anni, per cui risulta molto spesso difficile, se non quasi impossibile, o comunque molto rischioso, trovare degli approcci che funzionino bene al ribasso. Bene, io diciamo che per contrastare un po' questa cosa negli anni, ho provato differenti approcci per essere coperto anche quando il mercato scende. E sebbene sia molto difficile trovare qualcosa, si può comunque trovare qualcosa, diciamo, di decente o accettabile. Un esempio è questa strategia che io ho codificato ormai 4 anni fa, sull'S&P 500, e di base ha un motore abbastanza noto, nel senso che è un opening range breakout, comunque questo è un simile breakout, anche se non entra proprio con gli ordini in stop. Dunque, quello che succede in questo caso è che all'interno della, diciamo, sessione americana, quindi direi dopo l'area di apertura di Wall Street, di base io calcolo due livelli, uno per il long e uno per lo short. E calcolo il tutto partendo dall'apertura della sessione, quindi alla barra, diciamo, della mezzanotte, ecco. E aggiungo e sottraggo un tot numero di volte e il valore dell'average true range. In questo caso io ho calcolato tutto sul 15 minuti, ma potete provare poi voi anche con altri time frame per eventualmente andare a scegliere un altro ATR, se fa più al caso vostro. Ecco, in questo caso diciamo che l'obiettivo di questo sistema non è tanto quello di guadagnare cifre astronomiche, perché chiaramente è un approccio piuttosto limitato perché è difficile entrare spesso short su questi sottostanti in maniera efficace, però mi aiuta, diciamo, a stabilizzare altri sistemi, insomma, a essere complementare rispetto ad altri sistemi che invece entrano, diciamo, solitamente counter trend, quindi al contrario rispetto alla tendenza di fondo. Invece qui vedete che dall'open di giornata vengono calcolati questi livelli, quindi ad esempio questo qui è il livello per lo short e superato questo livello poi alla barra successiva, qui si entra, vengono messi poi uno stop loss e un take profit che sono relativamente piccoli perché tutto è tarato per un'operatività intraday, però solitamente va abbastanza benino, insomma, e non fa troppi disastri nei periodi in cui invece il mercato sale di parecchio. Io questa strategia tendo a tradarla solamente dal lato short, per cui qui nel long non c'è nulla. Diciamo che anche l'average trade è sostenibile, per un'operatività intraday è anche abbastanza buono. E se vediamo l'annual period analysis qui vediamo che la maggior parte degli anni è positiva, vediamo che nel 2008 avrebbe probabilmente salvato in molti casi, quando ci sono stati dei crolli improvvisi. Non avrebbe aiutato particolarmente nel 2020, però normalmente si sarebbe salvata senza fare grossi danni. Per cui vi invito a mettere un like a questo video e a condividerlo. E vi ricordo che al link qui sotto in descrizione potrete trovare anche un webinar gratuito in cui viene trattata un'introduzione alla costruzione dei trading system e alla creazione di portafogli ben diversificati di strategie automatiche che seguono proprio i principi del metodo del quattro volte campione del mondo di trading Andrea Unger. E ti ricordo infine che se non l'hai ancora fatto, di iscrivervi al canale, vi do appuntamento al prossimo video per scoprire insieme altri aspetti legati al mondo di trading system. Ciao a tutti!